Siamo a Giuliano, questa mattina un sequestro della polizia su questa strada a fianco all'alveo di scarico, rifiuti ovunque, cosa è successo e qual è la storia di questa strada? È una storia che dura da più di due anni in effetti, questo anno avevamo richiesto la chiusura di questo tratto, questa è via Pacchianella, si chiama, il canale Canale Colonna, c'è stato un rimpallo di responsabilità tra Regione e Comune, un anno fa la Regione intimava al Comune la polizia, dopodiché dopo un anno il Comune si è svegliato e ha deciso di rispondere alla Regione dicendo che non è di sua competenza per quanto non è di sua proprietà, è una gestione che sta in capo alla Regione, al Consorzio di Bonifica. E quindi anche all'assessorato all'agricoltura perché sono connessi, infatti si ritorna anche nella storia che noi paghiamo una tassa per la bonifica di questi canali che non viene effettuata. Ci sono rifiuti pneumatici, carcasse di auto, ci sono state anche, ci sono plastiche, paraurti, serbatoi, dietro ci sono delle coltivazioni, questo è alveo, quando si riempie comunque viene usato anche per l'irrigazione degli stessi campi. E qua ci sta anche l'abbruciamento di quelli che sono, di questi rifiuti, ci sono anche dei solventi, delle scatole di vernici, quindi c'è un po' di tutto. Alle nostre spalle c'è anche una telecamera, quest'area sarebbe videosorvegliata? Diciamo che questo è un deterrente ma non è stato messo dal Comune, è un deterrente di qualcuno del territorio che abita qui perché ha cercato comunque di proteggersi. Molti pini stanno ormai morendo, cosa sta succedendo a questi alberi? La vorremmo sapere, in effetti manca anche il censimento perché questi alberi di alto fusto dovrebbero essere censiti secondo la legge 10 del 2013. E quindi diciamo che loro sono un po' la sentinella perché se un albero muore probabilmente anche noi stiamo là, là è un sintomo che dovrebbe essere chiarito perché è un albero muore. E non sono uno, purtroppo ne sono tanti, sono alberi secolari che dovrebbero essere censiti e protetti, purtroppo ancora una volta lo Stato qua non c'è.